Daniele Farsetti per la lista patto civico per Arezzo è di fatto il primo candidato a sindaco che viene ufficializzato per le prossime amministrative. Sì, noi abbiamo anche deciso di farlo provocatoriamente questa uscita come medaglia d'oro dei candidati che per primi si sono presentati proprio perché vediamo anche un clima brutto in città, una palude nel centro-sinistra per tutta una serie di tatticismi, corsi alle poltrone, nella destra le vicende giudiziarie di Ghinelli, la cattiva amministrazione pongono una serie di veti incrociati. Noi invece vogliamo dire ci siamo, abbiamo entusiasmo di riportare questa città al livello che merita e ci mettiamo la faccia, il coraggio, l'impegno, la determinazione per cercare di fare qualcosa di positivo per la nostra città. Perché patto civico? Perché c'è la volontà di governare insieme ai cittadini, c'è una doppia chiave di lettura. La prima è quella che noi vogliamo amministrare insieme a tutta la cittadinanza, quindi non contro qualcuno come è avvenuto negli ultimi cinque anni o al di sopra di qualcuno che si riteneva un intoccabile evidentemente, ma vogliamo istruire tutta una serie anche di strumenti di democrazia diretta, partecipata, la linea diretta con il sindaco, le commissioni pubbliche in cui opere particolarmente importanti o determinazioni particolarmente importanti devono passare tramite il vaglio dei cittadini, il bilancio partecipato in cui appunto i cittadini possano contribuire a indicare le priorità che loro hanno e poi il patto come idea di qualcosa di più sacrale della promessa elettorale, nel senso che nella politica attuale ormai purtroppo uno dei fattori di disamoramento è che il politico di turno che prende un impegno in realtà già di per sé si pensa che lo possa disattendere. Invece noi inserendoci la parola patto, crediamo la nostra storia personale politica ci possa anche in una certa misura testimoniare che quello che diciamo poi cercheremo di fare in tutte le maniare. La vostra è una lista apartitica? La nostra è una lista apartitica, è una lista civica, alcuni di noi fanno parte e lo rivendicano anche con orgoglio di un partito politico che si chiama Italia in Comune, ma l'idea è appunto quella di cercare di essere un pochino più trasversali e aprirci alla città, aprirci a tutte quelle realtà associative, a tutte quelle realtà civiche che non vogliono, non hanno interesse a identificarsi in un partito specifico, ma invece vogliono dare un contributo proficuo al miglioramento di questa nostra meravigliosa rezza. Quindi se diventerà sindaco non avrà i partiti che le tireranno la giacca per fare le nomine delle partecipate? No, di più noi cercheremo ovviamente di porre come elemento valoriale il merito, quindi non ci sarà un partito che ci dirà trova la poltrona a questo soggetto, ma sicuramente ci sarà una valutazione delle candidature, dei curriculum e solo persone competenti per quella materia staranno a dirigere una società partecipata che si occupa di un servizio specifico. In più noi cercheremo anche l'indipendenza, perché noi abbiamo detto, scritto, abbiamo redatto un piccolo patto con i cittadini in cui non accetteremo finanziamenti superiori a 100 euro. Questo perché ci pone nella condizione di essere totalmente indipendenti. Evidentemente chi ricevesse un finanziamento cospicuo per la propria campagna elettorale o prima o dopo sarà costretto a pagare un prezzo. Un patto che possono leggere su questo sito danielefarsetti.com, danielefarsettisindaco.it? Sì, siamo in fase di costruzione, quindi abbiate pazienza, pietà, tolleranza, ma insomma nei prossimi giorni sicuramente tutto questo sarà riportato in tutti i canali social. La domanda delle domande, in caso di ballottaggio, ovviamente nel caso in cui non venga lei eletto sindaco, ha già un'idea? Però questa è una domanda anche un po' pretestuosa, perché noi siamo in una fase elettorale in cui tutti si concorre a pari. Noi abbiamo l'ambizione anche di poter… in politica sono le idee che contano, è difficile stabilire a priori quali idee. Noi abbiamo delle condizioni inderogabili, il nostro patto, poi vedremo. Se qualcuno aderisce. Vedremo, esatto.